buongiorno ben ritrovato voi tutti cari amici da nicola da lucia parliamo di basket coppa italia di serie a 2.000 serie a 1 2020 quarti di finale si completa il quadro delle semifinali ieri sera alle 20.45 sempre alla wheat free arena di pesaro la virtù scusate la fortitude bologna ha avuto la meglio per tre punti su brescia 76 a 73 andiamo con la cronologia dell'incontro gare gare che incomincia in perfetto equilibrio 17 pari alla fine del primo quarto 34 33 nel secondo nel terzo 56 53 e poi continua perenne l'equilibrio fino al 73 a 76 finale vittoria della fortitude bologna votata bene 3 15 2 95 2 83 2 95 quindi per quanto concerne adesso il quadro delle semifinali oggi ci sarà le 17 45 venezia milano a seguire alle 20 alle 21 la fortitude bologna sperando contro brindisi che appunto la nostra brindisi può guadagnarsi un posto al sole in finale quindi ribadisco il risultato la fortitude bologna batte 76 a 73 e va in semifinale dove affronterà questa sera alle 21 la new basket brindisi ciao a tutti